Un nuovo anno accademico per il Conservatorio Casella ricco di progetti e offerte. L'offerta formativa già di per sé lo colloca tra le eccellenze dell'alta formazione musicale. Basti pensare al Dipartimento di Musiche Tradizionali e a quello di Musiche e Nuove Tecnologie. Gli iscritti attualmente sono 750 e la novità è che vengono attivati nuovi corsi ma anche dottorati di ricerca. In ottobre avremo una tournée in America con la nostra orchestra degli studenti. Toccheremo quattro città americane, la Carnegie Hall di New York, poi Philadelphia, Atlantic City e Boston. Per quanto riguarda la didattica, il Ministero finalmente ci ha accreditato il biegno di musicoterapia. Quindi è un biegno accademico come tutti gli altri ordinamenti. E finalmente anche in Italia c'è il giusto riconoscimento per questa disciplina che in Europa ormai è considerata un'attività professionale a tutti gli effetti. Inoltre siamo in attesa che sempre il Ministero ci mandi il regolamento per attivare finalmente, anche qui siamo un po' in ritardo rispetto all'Europa, i dottorati di ricerca artistica. Abbiamo già contatti con istituzioni europee dove questa modalità già esiste. Quindi siccome il regolamento prevede una convenzione con istituti che hanno già un curriculum di attività in questo settore, ci stiamo muovendo al riguardo. Sul fronte della didattica si lavora progetti di orientamento e tutorato ed azioni di recupero e inclusione. Con un orientamento attivo nella transizione scuola-università che offre la possibilità di frequentare corsi sulla base di accordi con le scuole per gli alunni iscritti agli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore di secondo grado. E va avanti anche l'iter per la realizzazione della nuova e definitiva sede del Conservatorio presso il Parco di Collemaggio, l'area dell'ex ospedale psichiatrico. Il RUP, nominato dal Comune dell'Aquila, sta elaborando il bando di selezione per il progetto della nuova sede. Molto soddisfatto di questa istituzione, il nuovo presidente Carusi. Continuiamo la tradizione aquilana. L'Aquila è una città di grandissima cultura, il Conservatorio si inserisce in questa grandissima cultura perfettamente e di questo siamo assolutamente orgogliosi. Facciamo il nostro dovere, come è giusto che sia, nella grande tradizione della scuola, dell'Università e dell'Accademia Italiana.